questa nuova puntata di un caffè con Morpheus voglio darvi una bella notizia questa è una delle ultime puntate in cui sarò da solo perché ho deciso di invitare tutta una serie di personaggi del cosiddetto fronte del dissenso parola che sapete che io non sopporto lo chiamo il fronte del buonsenso tante persone che saranno anche candidati nella lista libertà come Marco Mori come Vito Comencini come Sara Cunial come Ugo Rossi anche molti dei candidati nel gruppo agricoltori noi agricoltori e pescatori ci sarà quindi tanto da prendere tanto da discutere lo faremo da dopo domani poi la prima intervista dovrebbe essere proprio a Vito Comencini come me un forte oppositore della guerra in Ucraina lo hanno definito putiniano perché è stato più volte nel Donbass invece è una persona che sicuramente ha l'esperienza e ha le capacità per descrivere in maniera autentica quello che è accaduto in Ucraina ovviamente anche quadruato da me in qualità di autore dell'inchiesta perché il conflitto è nato che Vito mi ha detto di aver trovato il miglior libro inchiesta sull'argomento rendendomi veramente molto orgoglioso quindi ci sarà di che discutere e soprattutto servirà per mettere a tacere quelle voci ridicole che alcuni personaggi che stanno impazzendo totalmente da quando è nata questa lista libertà e da quando loro sono gli unici esclusi ed hanno capito l'errore enorme che hanno fatto perché la lista continua a crescere continuano ad entrare simboli e leader del mondo del buonsenso i sondaggi ci danno addirittura in crescita in una settimana dello 0,6% di crescita cosa veramente incredibile questi personaggi stanno impazzendo e ieri vedevo addirittura Riccio e Toscano che hanno pensato di fare l'ennesima puntata su visione tv per accusare quelli che loro ormai ritengono essere dei loro nemici noi non ci riteniamo assolutamente tali ma l'ennesima puntata soltanto per parlare contro chi ha deciso di non restare sul divano con i pop corn il 9 giugno ma di volersi attivare di volersi rimboccare le maniche di provare a buttare il cuore oltre l'ostacolo di fare unione per provare a portare a Bruxelles degli esponenti di un mondo che da sempre combatte in trincea contro il nemico comune bene loro non hanno accettato questa unione probabilmente per paura di doversi misurare all'interno di una medesima lista con le preferenze dove non si può mentire si vede chi sono i leader o i personaggi più apprezzati dal pubblico e quindi sono poi impazziti totalmente quando hanno visto che sempre più liste sempre più elementi hanno aderito e che la lista continua a crescere quindi ieri ripeto l'ennesima trasmissione su visione tv che ormai qua permettetemi di aprire una parentesi perché questa cosa mi dispiace tantissimo che Toscano stia usando visione tv come se fosse una tv del mainstream quel canale web che il mainstream avrebbe dovuto combatterlo e invece si comporta nello stesso modo fanno trasmissioni contro quelli che loro definiscono ora i loro nemici politici che poi saremmo noi che siamo stati con loro alleati per anni noi che combattiamo con loro dalla stessa parte della trincea ma oggi ci vedono come dei nemici quindi continuano a dedicare trasmissioni video post per dileggiare il loro nuovo nemico lo fanno ripeto da visione tv lo fanno parlando a senso unico non permettono come la tv mainstream il contraddittorio io stesso sono settimane che provo a chiedere a Toscano di invitarmi per avere un confronto pubblico davanti a tutti in modo che ognuno si possa fare una propria idea nel massimo della trasparenza ma non sono riuscito ancora ad ottenere questo invito eppure in diverse trasmissioni parlano anche di me invitano come fa il mainstream alcuni i fantocci da utilizzare per sparare fuoco amico amico tra virgolette contro l'ex alleato e si comportano esattamente come si comportano i giornalisti della televisione nessun contraddittorio trasmissioni a senso unico di leggiare il nemico senza dargli la possibilità di difendersi e poi come fa il tv mainstream se la cantano e se la suonano ieri ho sentito veramente cose cose assurde veramente tra il il comico e il surreale ho sentito per esempio marco rizzo dichiarare che se loro dovessero riuscire a raccogliere le firme eh il quattro per cento sarebbe sicuramente già superato sono già oltre il quattro per cento quindi oltre la soglia di sbaramento però mentre diceva questo dall'altra parte pochi minuti prima aveva annunciato che quasi sicuramente non riusciranno a raccogliere le firme allora è ovvio che se tu sai già come loro già sanno che non parteciperai alle elezioni puoi anche dire di aver superato virtualmente la soglia del venti per cento di sbaramento tanto poi non dovrai dimostrarlo con i numeri è quello che piace a loro dover dire e fare delle cose senza poi doverle dimostrare nel nel pratico quindi rizzo da una parte diceva che avevano superato il quattro per cento la soglia di sbaramento vi invito a guardare quella trasmissione su visione tv e dall'altra parte però riteneva impossibile riuscire a raccogliere settantacinque mila firme in diversi mesi che hanno avuto a disposizione ne hanno ancora quasi due ora voi la matematica lo sappiamo non è una opinione come si può immaginare di raggiungere il quattro per cento degli elettori quindi parliamo di oltre un milione ma molto oltre un milione di elettori che devono scendere di casa per andare a mettere la ic su democrazia sovrana e popolare di quel mi oltre un milione di votanti non ne riesce a trovare però settantacinquemila capaci di mettere una firma per permetterti di partecipare alle elezioni non è la struttura per raggiungere settantacinquemila firme però è la struttura per raggiungere un milione e oltre di votanti ovviamente una balla grande quanto la casa non ci crede nessuno tranne qualche attivista qualche pasdarana del del partito lui sicuramente non crede ad una cosa del genere i sondaggi qualcuno lo dà all'1,3 come le politiche dell'anno di un anno e mezzo fa qualcuno lievemente in crescita io credo che sia lievemente in crescita e credo che possa toccare anche il 2% qualora dovesse presentarsi alle elezioni il 4% fanno ridere se tu hai il 4% avresti settantacinquemila firme le avresti raccorte in poche settimane chiuso questo discorso hanno però fatto girare un posto e questo è veramente qualcosa di vergognoso in cui c'è una intervista di Cateno De Luca alla verità ora io premetto che Cateno De Luca è il leader di Sud chiama Nord che è una delle 17 sigle della lista libertà quindi una delle 17 sigle ovviamente quella maggioritaria nel senso che quella che ha dato la possibilità a tutte le altre 16 sigle di poter bypassare la raccolta firme e quindi provare veramente ad incidere questa volta dall'interno con una campagna elettorale importante in cui Cateno De Luca è riuscita ad unire tutte le entità del fronte cosiddetto dell'antisistema personaggi come me, come Marco Mori ma anche partiti come Vita, come Insieme Liberi e come noi agricoltori e pescatori contro l'Europa Vito Comencini, detto il putiniano di Italia è riuscito ad unire tante anime che prima dialogavano tra di loro ma che non si erano mai unite bene, Cateno De Luca ha rilasciato questa intervista per me anche molto bella alla verità che gli ha dedicato una pagina intera e loro sono andati a pescare guardate bene perché c'è una parte dell'intervista dove prima gli danno del putiniano in alcune domande quindi ovviamente mettendolo un po' sulla difensiva da questo punto di vista poi il bravo Fabio Dragoni, l'onesto Fabio Dragoni gli chiede guerra in Ucraina, cosa ne pensa? Cateno De Luca dice io sono siciliano, la mia è una cultura di autonomia e indipendenza sono contraria a tutte le invasioni di campo poi Dragoni chiede quindi è dalla parte di Kiev? e qui Cateno De Luca risponde in maniera affermativa poi però precisa dice l'Europa non può perpetrare stati di emergenza e finanziare la guerra bisogna lavorare alla pace lo sottolineo, quindi Cateno De Luca dice di essere contrario al fatto che l'Unione Europea finanzi questa guerra e sostiene che bisogna lavorare alla pace però prima aveva risposto in maniera affermativa quando il giornalista gli chiedeva se fosse dalla parte di Kiev ovviamente questo è stato motivo di attacco da Rizzo e Toscano ma che non hanno utilizzato questo per attaccare Cateno e De Luca ma hanno preparato un post i loro scagnozzi che hanno fatto girare nei vari gruppi scrivendo a Modeo, Mori ed altri grandi campioni antisistema come fanno a stare candidati con la lista pro Kiev cioè hanno fatto diventare una parola di De Luca leader di uno dei movimenti Sud Chiama Nord rispetto ai 17 simboli presenti e hanno fatto diventare quella lista pro Kiev mentre quella lista dai media mainstream viene definita come una lista putiniana perché ovviamente c'è Francesco Modeo che ha scritto perché il conflitto è nato e ha parlato contro l'operazione degli Stati Uniti e della Nato in Ucraina nell'ultimo anno e mezzo su tutti i canali c'è Vito Comencini che è stato addirittura nel Donbass più volte per raccontare al mondo le complicità degli apparati statunitensi in quella che è stata una guerra indotta da quegli apparati che hanno voluto trascinare Putin in guerra ci sono i candidati del partito Insieme Liberi che la pensano esattamente come noi quelli di Italexit quelli del Movimento per l'Italexit del neonato Movimento per l'Italexit permettetemi di precisare altrimenti dicono ah Modeo vuoi confondere con la vecchia Italexit no con il Movimento per l'Italexit c'è il Marco Mori del partito Sovranità che la pensa esattamente come me ne abbiamo parlato in diretta quindi su tutte le sigle la maggior parte sono addirittura definite putiniane la frase di De Luca con la sua risposta sì ha dato il via a questi personaggetti di fare questo post per dire a Modeo e Mori come fanno a stare i candidati con la lista Pro Chieva hanno già trasformato quella lista in Pro Chieva allora noi lo ribadiamo con forza anzi oggi neanche a farla apposta proprio oggi usciva una mia pillola radio dovrebbe già essere uscita o uscirà tra qualche ora in cui io ribadivo l'importanza in questo preciso momento di ribadire la contrarietà alla guerra in Ucraina spiegare che tutto quello che ci hanno raccontato su quella guerra è una finzione e sta venendo a galla io spero col tempo che lo stesso De Luca al quale regalerò perché il conflitto è nato per il momento io ho già regalato il cartello finanziario ma gli regalerò anche questo perché è importante che chi ha fatto il sindaco chi è stato concentrato sulle materie nazionali regionali e comunali si apra un attimo anche a questi temi internazionali avendo anche un'altra chiave di lettura che non è quella che arriva dai media mainstream quella con la quale bombardano la popolazione perché il sì a cui ha risposto De Luca il sì a cui avrebbe risposto purtroppo il 90% della popolazione italiana forse lo ha fatto anche perché rispondere no dopo che hanno premesso che ci danno dei putiniani sarebbe stato forse anche un autogollo quindi strategicamente la sua risposta può anche essere per quelle motivazioni ma se anche De Luca scendesse in piazza con la sciarpa dell'Ucraina De Luca è una persona alla quale noi dobbiamo tantissimo perché ci ha dato una possibilità noi non siamo in quella lista per De Luca ma siamo in quella lista grazie a De Luca tanto di cappello io spero un giorno che anche queste divergenze si assottiglino sempre di più è ovvio anche una cosa che non si può pensare di fare una lista con 17 simboli e pensare che la pensiamo tutti uguale su tutto signori se la pensassimo tutti alla stessa maniera su tutto ci chiameremmo tutti sud chiama nord non ci sarebbero altre sigle non ci sarebbero altri partiti non ci sarebbero altri leader non ci sarebbero altri statuti non ci sarebbero altri programmi la cosa importantissima di quella lista è proprio una unione di movimenti di partiti e di leader ognuno con la propria realtà ognuno con la propria identità il che vuol dire aver trovato dei punti di incontro su quelli che sono i temi più emergenti i temi prioritari per il popolo italiano dopodiché firmare tutti insieme quel manifesto che è un manifesto pubblico che dopo magari vi posto nei commenti e su quello portare avanti una prima battaglia che è quella di bypassare il sistema che voleva tenerci tutti a casa il sistema si era organizzato per prendere 17 partiti del fronte del dissenso e non permettergli di arrivare alle urne quindi per cantarsela e suonarsela facendo vincere il più Europa di Bonino gli Stati Uniti d'Europa di Renzi il partito di Calenda il partito degli ultra europeisti i partiti degli ultrapassaran pro Kiev invece De Luca ha permesso di rompere le uova nel paniere perché ha dato una possibilità a tanti simboli di mettersi insieme bypassare le firme e provare ad imporre i propri uomini ovviamente abbiamo dovuto trovare la quadra su alcuni punti fondamentali ma non su tutto altrimenti non avremmo avuto ragione di esistere io ho un partito che si chiama noi italiani che adesso è stato declinato per queste elezioni noi agricoltori e pescatori che è una branca di noi italiani la branca politica perché poi noi italiani è un'associazione culturale bene, non avrebbe ragione di esistere se Sud chiama Nord di Caldino di Luca avesse le nostre idee identiche su tutto su Kiev, su Israele sull'Euro, sull'Europa sui trattati europei non avremmo ragione più di esistere noi che siamo comunque dei partiti minori perché non abbiamo l'esenzione delle firme così come non avrebbe ragione di esistere il movimento per l'Ital'Exit se Sud chiama Nord la pensasse allo stesso modo sulla sovranità monetaria ma non avrebbe ragione di esistere neanche democrazia sovrana e popolare di Vizio e Toscano che sono ovviamente dei partiti molto inferiori rispetto a quella che è la potenza che ha De Luca avendo già espresso due parlamentari avendo decine di sindaci avendo decine di eletti al Parlamento siciliano quindi non avrebbe avuto ragione di esistere nessuno di noi la fortuna invece è che siamo uniti anche nella diversità quindi ognuno può mantenere la propria identità io però lo ribadisco perché il conflitto è nato contro i criminali al governo a Kiev contro i neonazisti di Kiev sono il fautore del gruppo Facebook italiani che vogliono la pace con la Russia da sempre combatterò per queste idee porterò queste idee al Parlamento europeo qualora mi fosse data questa possibilità sarò sempre dalla parte della pace con la Russia sarò sempre contro il regime criminale di Kiev e domani lo ribadiamo con forza invitando ad un caffè con Morpheus a questa specifica rubrica Vito Comincini il grande l'immenso Vito Comincini che più volte è andato in Nobaz che è nella lista di quelli che vengono definiti i putiniani d'Italia quindi figuratevi quando scrivono Amodeo, Mori e Comincini in una lista pro Kiev fanno veramente ridere però hanno preso quel sì di De Luca perché questo gli piace fare però adesso arriviamo un attimo al sodo poi leggerò i vostri commenti quindi se Rizzo ieri si chiedeva come mai Francesco Amodeo autore del libro perché il conflitto è nato poteva essere in una lista insieme a 17 simboli di cui uno sud chiama nord di De Luca che dice sì quando gli fanno la domanda se è o meno dalla parte dell'Ucraina Rizzo però dovrebbe spiegare ai suoi o bisognerebbe fare qualche posto come hanno fatto loro con una domanda per provare a capire quali sarebbero le risposte del suo pubblico Rizzo deve dirmi come fa a sbandierare la sua posizione anti-Nato il suo partito c'ha come principale punto del programma l'uscita dalla Nato ma come fa ad avere quel punto di programma chi ha fatto parte ha fatto parte di un governo che ha sostenuto i crimini della Nato nei bombardamenti della Serbia Rizzo faceva parte di quella compagine quando la Nato ci obbligava a renderci complici dei bombardamenti della Serbia io non ricordo Rizzo incatenato all'interno del Parlamento per far valere le proprie ragioni per opporsi ai bombardamenti della Nato in Serbia per opporsi a quei crimini non ricordo sto facendo una ricerca su Facebook su Youtube su Google sto vedendo negli archivi aiutatemi a controllare se Rizzo si è incatenato al Parlamento o si è dato le proprie dimissioni quando era parlamentare e faceva parte di quella compagine che invece in quel preciso momento storico avallava i crimini della Nato sulla Serbia avallava quei bombardamenti io non l'ho trovato aiutatemi vi prego perché a questo punto per la proprietà transitiva se Amodeo non può candidarsi in una lista dove c'è qualcuno che dice di sì a Chievo lui dovrebbe spiegarmi come fa ad essere leader di un partito contro la Nato se quando doveva intervenire contro la Nato quando poteva farlo quando poteva dare un segnale forte anche di dimissioni non l'ha fatto stessa cosa dovrebbe sempre dirmi Rizzo come fa oggi ad essere i leader di un partito no euro sia fatto parte di quei governi che ci hanno portato nell'euro come il governo Prodi che è stato ringraziato all'epoca da Rizzo per averci portato nella moneta unica e sono tutti dati ufficiali non ricordo Rizzo in quel periodo che si incatenava nel Parlamento per evitare l'entrata dell'Italia nella moneta unica non lo ricordo nei suoi interventi contro Prodi ricordo invece piuttosto i ringraziamenti a Prodi per averci portato nell'euro quindi questa è un'altra grande incongruenza sempre Rizzo dovrebbe poi raccontarci come è possibile che oggi fa parte di un partito definito Novax quando lui stesso in tv dichiarava di essere contrario all'obbligo vaccinale per quanto riguarda il vaccino covid ma dall'altra parte diceva per me che quel vaccino l'ho fatto dovrebbero essere obbligatori tutti i vaccini ritenuti sicuri chi può dire qual è un vaccino sicuro l'AIFA l'EMA ma allora quelli ci raccontano che anche il vaccino covid è sicuro allora aveva ragione De Luca allora siete sullo stesso piano perché Rizzo ha detto esattamente quelle parole in tv io sono per il vaccino obbligatorio se quel vaccino risulta sicuro chi lo dice se il vaccino è sicuro la scienza con la S è minuscola l'AIFA l'EMA l'organizzazione mondiale della sanità quindi come vedete anche lui riesce ad essere all'interno di un partito contro la Nato ma non ha fatto nulla quando la Nato obbligava l'Italia a rendersi complice dei bombardamenti in Serbia fa parte di un partito no euro ma non ha fatto nulla quando era in un governo che ci ha portato in quell'euro anzi ha ringraziato il suo leader ora ci racconta anche di essere contro duro e puro quindi ha pubblicato l'altro giorno l'immagine di un di una persona che doveva stava per avere una candidatura all'interno della lista libertà però prima di accettare la candidatura aveva chiarito che stava aspettando una sentenza quella sentenza di primo grado è arrivata trovandolo colpevole quindi questa persona che era stata presentata a De Luca ha fatto un passo indietro perché aveva chiarito fin dall'inizio che aspettava la sentenza prima di accettare la candidatura e anche lì Riccio e Toscano hanno puntato il dito De Luca stava per candidare una persona che ha avuto una condanna ma cari miei avete fatto un'alleanza con Alemanno che quella condanna ce l'ha che ha un'interdizione che non si può candidare non si può candidare per la condanna che ha avuto in tutti i gradi di giudizio e vi scandalizzate se una persona che era stata presentata a De Luca con la possibilità che si candidasse all'interno la lista libertà che ha detto aspettiamo di vedere prima come va la mia questione giudiziaria e poi ha fatto un passo indietro e non vi scandalizzate di aver fatto un'alleanza unendo i due simboli in tutto e per tutto vi state presentando insieme a delle elezioni con una persona che è stata ufficialmente condannata ufficialmente nei vari gradi di giudizio condannata tant'è vero che non si può neanche candidare allora vedete che questi personaggi sono arrivati veramente alla frutta perché si contraddicono su tutto vogliono fare duri e puri ma duri e puri non possono esserli perché qui a questo punto caro Rizzo e caro Toscano il duro e puro lo posso fare io con voi non ho fatto parte di nessun governo che ha bombardato Belgrado non ho fatto parte di nessun governo che ci ha portato nell'Unione Europea non ho mai detto che sono a favore di un vaccino obbligatorio non ho mai fatto alleanze con una persona che è stata condannata e che non può presentarsi alle elezioni permettendogli quindi di mettere i propri uomini quindi se vogliamo giocare al duro e puro quando mi incontrate dovete abbassare lo sguardo perché duro e puro è chi non ha mai fatto tante cose delle quali voi vi siete resi protagonisti ma quelle cose però nessuno ve le ha mai rinfacciate quando mi è stata chiesta la candidatura con democrazia solana e popolare io non ho detto non potrei candidarmi con chi in passato si è reso complice o comunque silente nei confronti dei bombardamenti di Belgrado da parte della Nato non l'ho detto perché il passato è passato ognuno può aver cambiato la propria idea ognuno oggi probabilmente si comporterebbe in maniera diversa così come non ho detto io non posso fare parte di una lista quella di democrazia solana e popolare dove c'è chi ha fatto parte di quei governi che ci hanno portato nell'Unione Europea non l'ho fatto perché non ritengo che sia una vostra colpa quello che avete fatto in passato quello di cui vi siete resi complici o quello sul quale siete rimasti semplicemente in silenzio a Napoli si dice scurdamoci o passato ovviamente se uno poi oggi intraprende una via diversa quindi quello che io non ho fatto con voi ora volete che io lo faccia con Cateno De Luca chi ha delle idee sue su alcune cose molto condivisibili da me su tante materie perché adesso siamo andati a trovare il pelo nell'uovo ma l'alternativa a De Luca sarebbe più Europa sarebbe Stati Uniti d'Europa sarebbe Bonino sarebbe Renzi sarebbe Calenda che Dio ce ne scansi con loro c'è il 100% il 101% di temi che non condivido nella maniera più assoluta e li ritengo pericolosissimi per il nostro paese con De Luca ci saranno un 80% di temi sui quali abbiamo trovato anche una quadra e abbiamo firmato un manifesto e ci sono un 20% di temi che possiamo vedere in maniera diversa ma se io devo scegliere se non ce la dovesse fare a Modello se non ce la dovesse fare Marco Mori se non ce la dovesse fare Lacunial se non ce la dovesse fare nessuno di quei 17 simboli del cosiddetto fronte antisistema ad esprimere un proprio candidato quindi abbiamo contribuito semplicemente alla lista libertà io sono molto più contento che arrivi al Parlamento Europeo chi condivide con me l'80% dei programmi e non il 20% rispetto a lasciare quei seggi alla Bonino a Renzi a Pioropa o a Stati Uniti d'Europa con i quali sono in contrasto al 110% quindi che questo sia chiaro contribuire con la mia campagna elettorale a far crescere il simbolo libertà anche se non dovesse scattare Amodeo Mori Cunial Ugo Rossi o altri o il Movimento per l'Italia Exit o Insieme Liberi o chiunque altro anche se non dovessimo scattare noi abbiamo contribuito a fare scattare una persona con la quale abbiamo firmato un manifesto che ci vede dalla stessa parte della trincea per l'80% almeno in alternativa sarebbero arrivati a prendere quel seggio i nostri nemici al 100% che questo sia chiaro che poi io non credo neanche che ci sia questa diversità tra i movimenti che fanno parte di quella di quella lista io ho trovato una unione che non avevo mai trovato prima ho trovato un clima che non avevo mai trovato prima leggo il commento qui su Facebook di Francesco Cannata che dice saluti da Tormina il nostro sindaco Cateno De Luca è un grande stanatore di topi di ladri di formaggio e ragazzi io ho parlato con tante persone anche per il messiere che faccio devo prendere informazioni il sindaco di Tormina Cateno De Luca è amatissimo dalla gente della sua città dalle persone che governa e questo già è una rarità enorme trovare un politico apprezzato e amato nei territori che governa è una cosa che in Italia non si vede più è amatissimo a Messina dove ha governato è amatissimo a Tormina andate a parlare con la gente del posto per capire che poi la questione della politica internazionale che ci può vedere su alcuni punti divisi non può cambiare assolutamente la stima nel personaggio per quello che ha fatto per il proprio popolo io sono andato a parlare con gli agricoltori della Sicilia quando ho creato il movimento agricoltori e pescatori e si sono sempre ritrovati Cateno De Luca dalla loro parte della trincea questo per me può bastare Donnax Bianca dice in Sicilia è amato da tutti poi ha fatto una diretta con Sara Cunial e con non ricordo il nome il famoso cantante molto amato nel mondo Novax e ci ha raccontato Red Rony scusate un lapsus non ricordavo il nome ha fatto una diretta bellissima in cui ha spiegato anche perché è stato indotto nell'errore in quel periodo e ha fatto scelte che oggi non condivide più ma a parte questo io credo sia utile a tutti capire che non bisogna essere uniti su tutto quando si crea una coalizione bisogna essere uniti al cento per cento quando si abbandona un partito per entrare in un altro partito quando bisogna candidarsi dietro ad un partito quindi abbracciare quello statuto quel programma quei valori quel leader noi siamo delle entità diverse che ci siamo messi insieme per buttare il cuore oltre l'ostacolo per superare il nemico comune e lo abbiamo fatto intorno ad un manifesto che ci vede congiunti che ci vede d'accordo sull'ottanta per cento delle materie questo può bastare poi il sì di De Luca dalla parte di Kiev o il fatto che sia per il meno Europa mentre io sono per la distruzione totale dell'Europa questo non vuol dire che non possiamo fare un percorso insieme io sono convinto soprattutto avendo conosciuto il sindaco De Luca che è una persona molto aperta è una spugna quando tratti degli argomenti quando gli mostri delle prove su alcuni determinati argomenti sono convinto che prima o poi sarà lui a venire dalla nostra parte anche contro questa guerra in Ucraina riusciremo a fargli capire anche che non c'è stata una invasione di Putin nata dal nulla ma è stata una risposta ad un attacco che è iniziato a Kiev nel 2014 contro i filorussi per accertare la Russia per trascinare la Russia in guerra questo io sono sicuro che De Luca quando si troverà tante persone che la pensano come me nella propria nella lista comune e parteciperà con noi a convenni a conferenze avremo modo di confrontarci qualche idea la cambieremo noi in base a quello che lui ci trasmette su alcuni temi soprattutto sui temi locali io lo sto seguendo moltissimo sui temi locali e regionali perché veramente ha un'esperienza enorme come io sono convinto che lui farà un passo verso di noi su quelli che sono i temi di geopolitica e politica internazionale questa è democrazia questo vuol dire confrontarsi questo vuol dire unirsi contro un nemico comune non possiamo essere tutti uguali a me fa veramente tristezza qualcuno che ieri su Input Edilizio e Toscano ha preparato questo post scrivendo Amodeo e Mori entrano nella lista Pro Kiev domani sarò collegato con Vito Comencini candidato come me io addirittura sono candidato in tutte le circoscrizioni tranne le isole vi faremo vedere chi è la lista Pro Kiev semplicemente quella è una lista che vuole la pace lo grida in tutte le sedi lo ha gridato anche Cateno De Luca sulla verità quando ha detto bisogna lavorare alla pace lo sottolineo questo è il punto principale l'Europa non può finanziare la guerra cosa deve dire più De Luca non ha mai mancato la sua parola dice Ilenia Naticchia Bonsignore Antonella dice ci vorrebbe un De Luca in ogni regione ragazzi io sto leggendo i commenti su Facebook dove questa diretta ci tengo a precisarlo perché lo potete constatare voi stessi non è stata preparata nel senso io non sarei dovuto andare in diretta su Facebook perché ho la pagina in shadow ban quindi sono pochissime le persone che si riescono a collegare non era previsto ho mandato la diretta parallelamente invece sia su YouTube dove l'avevo annunciata che su Facebook quindi non ho chiesto a nessuno di venire qui a commentare ma sto vedendo tantissimi commenti soprattutto dei siciliani a favore di De Luca che lo ripeto su alcuni temi di politica internazionale ha una visione molto più blanda rispetto alla mia ma ben venga ben venga perché così possiamo unirci ognuno con la propria identità se non fosse così avrei dovuto chiudere l'associazione noi italiani per entrare in sud chiama nord avremmo dovuto chiudere il movimento per l'Ital Exit per entrare in sud chiama nord avremmo dovuto chiudere il movimento vita e insieme liberi per entrare tutti in sud chiama nord invece la cosa più bella che è stata fatta da quando io lavoro in questo settore è riuscire a mettere tutti insieme anche con le proprie diversità in un fronte comune in una lista dove ognuno conserva la propria identità il proprio statuto il proprio programma ed esprime i propri candidati che poi alle elezioni con le preferenze ovviamente avranno la possibilità anche di confrontarsi tra di loro per capire se in maggiorità era la posizione di una o di un altro quindi più che altro invece di cadere in queste trappole di chi è rimasto fuori di chi rimarrà fuori di chi sta perdendo consensi enormi perché ragazzi nessuno perdonerà a Rizzo e Toscano di non aver contribuito all'unità mancano soltanto loro punto sono gli unici che si sono voluti chiamare fuori sono gli unici con i quali sulla carta avevamo già superato il 4% avevamo già nostri uomini all'interno delle istituzioni l'antisistema aveva trovato la sua legittimità per partecipare a tutte le elezioni soltanto a causa loro questo non è avvenuto e dobbiamo lottare con il doppio delle energie per superare la soglia di sbarramento ma ce la faremo senza dubbio ma questo il pubblico del mondo antisistema che sta provando da anni a trovare un escamotaggio per provare ad incidere anche all'interno delle istituzioni Arrizio e Toscano non lo perdonerà mai e l'emorragia di consensi che stanno ricevendo su tutti i canali lo dice chiaramente poi questo atteggiamento di voler denigrare quello che ritengo l'avversario nemico di fare intere trasmissioni per dileggiare noi di questo di questo mondo che fino a ieri ci esaltavano soltanto perché abbiamo fatto una scelta di concretezza rispetto alla loro scelta autolesionista è davvero qualcosa di vergognoso e anche questo il pubblico non glielo sta perdonando anche perché fanno acqua da tutte le parti da una parte attaccano il candidato che ha avuto la condanna quello che si sarebbe dovuto candidare quindi neanche un candidato e dall'altra parte fanno un'alleanza con una persona che è già stata condannata parlano del passato di De Luca ma dimenticano il passato di Rizzo e tante scelte che sono in totale contraddizione con quello che dice oggi quindi sono veramente in totale contraddizione su tutto poi ovviamente io ho questo telefono e vorrei perché non mi permetterò mai e poi mai di fare una diretta per far vedere screenshot o conversazioni private non lo farò mai ma sto aspettando l'invito in diretta di Francesco Toscano per chiedergli pubblicamente caro Francesco mi autorizzi a desecretare i messaggi in cui mi invitavi a chiudere a fare di tutto per chiudere l'alleanza con De Luca in cui mi dicevi che per te quella cosa si doveva fare ma tutto dipendeva da Marco io ragazzi non potevo immaginare nella maniera più assoluta che Toscano in democrazia solana e popolare contasse quanto il 3 di picche ha credo briscola non lo so perché non ci gioco non conta veramente nulla per me è stato avvilente perché quando io sono entrato in democrazia solana e popolare mai entrato perché non sono testerato però quando ho accettato da esterno la candidatura io l'ho fatto su richiesta di Francesco Toscano che conosco da molti anni da tantissimi anni che stimo come giornalista col quale avevo fatto altre cose in passato ed io vi posso assicurare nessuno mi può smentire che non avevo avuto il piacere di conoscere Marco Rizzo lo conoscevo ovviamente per le sue battaglie l'ho visto per anni in televisione sul web ho condiviso tante sue cose ma io personalmente in tanti anni di attività non avevo mai conosciuto Marco Rizzo quindi io mi sono affidato semplicemente a Toscano al quale ho detto dato che mi ha chiamato in maniera molto in un momento molto prematuro per prendere una decisione però mi ha obbligato mi ha invitato scusate a sottoscrivere quanto prima le liste perché dovevano chiudere ho detto Francesco io non so ancora se l'Italexit della quale ancora ero commissario regionale se si presenterà se troveranno un modo per utilizzare il simbolo se si creerà un'altra formazione di Italexit per partecipare non posso decidere adesso lui mi ha detto Francesco dobbiamo chiudere quindi o sei dentro o sei fuori Italexit sicuro non si presenterà io ho detto in diretta sul suo canale adesso cerco anche il pezzo sul suo canale Vicene TV ho detto Francesco io vengo ma devi farmi una promessa mi devi promettere che farai di tutto per unirti con i movimenti che nasceranno con i movimenti del fronte antisistema che faranno la loro lista e soprattutto con chiunque possa aiutarci a bypassare la raccolta firme lui chiude quella diretta dicendo ti prometto che faremo di tutto anzi mi ha detto metteremo un simbolo Uniti all'interno del logo dove confluiranno tutti i partiti e i movimenti come il tuo Noi Italiani il mio Noi Italiani che lui non ha voluto col quale non ha voluto condividere il simbolo mi ha detto che sarei stato all'interno di Uniti e io su quella promessa mi sono affidato a Toscano salvo scoprire dopo che non contava assolutamente nulla se lui mi autorizza a desecretare i messaggi ogni qualvolta io dicevo Francesco posso chiedere questa cosa se De Luca accetta questa cosa siamo d'accordo ritorniamo a quegli accordi che voi avete già firmato con lui dopo mesi di trattative di scene di incontri vi eravate messi d'accordo su tutto se lui torna su questa cosa quel famoso Lodo Amodeo l'hanno chiamato voi firmate e le risposte di Toscano erano sempre per me va bene io la farei subito devi chiedere a Rizzo per me va bene devi chiedere a Rizzo per me va bene ho detto caro mio ma conti qualcosa o zero hai un minimo di voce in capitolo o nulla a quel punto mi ha dovuto contattare Francesco Sottile non si chiama Francesco l'amico Sottile mi ha dovuto contattare dalla Sicilia lui collabora con De Luca e mi ha detto Francesco dobbiamo parlare io e te perché con Rizzo non si riesce a dialogare e Toscano non conta assolutamente nulla in questa trattativa non conta nulla quindi sono iniziate le nuove trattative e a quelle trattative Rizzo non è che mi parlava di De Luca in quanto pagliaccio in quanto colui che inseguiva con i droni Novax eccetera il discorso era tutto improntato sul simbolo Rizzo non voleva la parola libertà voleva la parola ora libertà perché libertà ai comunisti gli ricorda libertà della democrazia cristiana questo era il problema non voleva Castelli come candidato perché al nord rischiava di scattare e ricevere come eurodeputato ricevendo più preferenze perché parliamoci chiaro Rizzo si è già confrontato alle elezioni europee ha preso 5.000 voti 5.000 voti in una intera circoscrizione noi di Talexit dove io ero capolista in Veneto o Vicenza quindi in quella zona specifica abbiamo preso 13.000 voti dove io lì ero capolista Rizzo ha preso alle scorse europee 5.000 voti è ovvio che quando tu prendi 5.000 voti ti vuoi confrontare soltanto con i tuoi attivisti messi in lista vuoi fare una lista dove sei capolista tu e il presidente del tuo partito sottomettere tutti gli attivisti sconosciuti e confrontarti su quella è ovvio quando è entrato Castelli nella sua circoscrizione perché lui aveva accettato De Luca che lui da solo con De Luca e con Alemanno è l'ultimo simbolo che mi ha inviato lui ci sarebbe stato c'è l'ultimo simbolo che mi ha inviato Rizzo per la trattativa con De Luca quando l'ho incontrato al bar a Roma dopo già dopo la prima conferenza stampa con il movimento per l'Ital Exit quindi una cosa proprio recente lui non è che mi ha detto De Luca deve scendere in piazza e gridare al mondo che ha sbagliato tutto in passato mi ha detto questo è il simbolo che noi accettiamo nel simbolo che accettavano c'era Alemanno il suo attuale alleato c'era De Luca e c'era lui al nord con Toscano perché così è facile mi piace vincere facile come fa la pubblicità Alemanno se la giocava al centro Cateno De Luca in Sicilia e a quel punto nelle circoscrizioni del nord Rizzo aveva la quasi certezza di avere più preferenze degli atti qualora fosse scattato l'euro parlamentare anche in quelle circoscrizioni così era tutto perfetto per Rizzo tutto perfetto i messaggi se accetta questo simbolo noi siamo dentro e ci sono poi quelli di Toscano che invece dice io sarei dentro a prescindere però non conto un cazzo tra virgolette questo lo aggiungo io e allora questa era la questione quando è subentrato Castelli Rizzo si è fatto due conti e ha detto al sud nelle isole scatta ovviamente Cateno De Luca che c'ha una barca di moti è un personaggio che ha preso 500.000 preferenze rispetto a Rizzo ne ha preso 5.000 nella sua circoscrizione Cateno De Luca in Sicilia ha preso preferenze che non si contano quindi in Sicilia nelle isole scattava come ero parlamentare lui al nord si rischiava che Castelli prendendo i voti del nord prendeva più preferenze di Toscano e Rizzo e dato che allora non interessa che nasca un progetto antisistema entrare all'interno delle istituzioni con membri del fronte antisistema crescere ed unire tutti le 17 sigla loro interessava arrivare all'Europarlamento con la certezza di farlo altrimenti tutti a casa attivisti amici candidati tutti a casa se non possono ottenere quello e quando si sono resi conto che quella era diventata un forse perché se la sarebbero dovuto a giocare sul campo hanno fatto saltare tutto l'hanno fatto saltare tutto sapendo sapendo che non arriveranno alle firme e comunque non arriveranno alla soia di sparamento che ieri invece hanno dichiarato che qualora dovessero farcela supereranno il 4% cosa davvero ridicola quindi questo è quanto poi sono emerse tante verità che ha fatto sapere Cateno De Luca sull'alleanza tra Rizzo ed Alemanno sui conflitti di interesse che Alemanno avrebbe per tutta una serie di cose c'ha l'ex moglie che è sottosegretario del governo Meloni c'ha l'attuale compagna che lavora come portavoce negli stessi ministeri quindi è legato a doppio filo con Fratelli d'Italia quello stesso Fratelli d'Italia che a un certo punto vedendo il pericolo Cateno De Luca ha dimezzato le firme con quel con quell'emendamento con quella regola per dimezzare le firme e quindi dare l'opportunità a Rizzo e Toscano di trovare la scusa per sfilarsi da quell'accordo ma questo è tutta roba di uno squallore infinita che poi verrà sicuramente a galla leggiamo un po' i vostri commenti dai vediamo un po' ho letto qualcosa qui là su Youtube su Facebook vediamo se c'è qualcosa su Youtube chat live vediamo un po' allora Francesco ciao non è vero che Toscano non conta nulla ma Toscano ha molto rispetto di Rizzo essendo un politico molto navigato e quindi è normale che ci sia rispetto tra di loro e si consultano ma fino a un certo punto perché quando tu hai una idea e sei un presidente di un partito e dici ho questa idea però parlane con Rizzo e fatti dare l'ok non è rispetto è sudditanza è diverso altrimenti ne parli tu se fossi una questione di rispetto ne parlerebbe lui avrebbe detto ne parlo con Rizzo ci mettiamo d'accordo e ti faccio sapere il fatto di dire io ci sono a qualsiasi evenenza parla con lui fatti dare l'ok questa si chiama a mio avviso sudditanza e non rispetto andiamo a vedere altri commenti andiamo a vedere che dici del punto del programma noi con Kiev vedi questi sono i pasdaran di democrazia sorana e popolare mi dispiace per questi personaggi noi con Kiev e chi noi siamo contro la guerra siamo contro il regime di Kiev Francesco Amodeo candidato con le preferenze potete scrivere il mio nome contro la guerra di Kiev è assolutamente contrario al regime di Zelensky e contro agli aiuti dell'Italia all'Ucraina è fondatore di un gruppo che si chiama italiani che vogliono la pace con la Russia è autore del più importante libro di denuncia delle responsabilità di Stati Uniti e Nato nel conflitto in Ucraina e a fianco a me è candidato Vito Comencini nella stessa circoscrizione del nord del nord-est che è stato colui che è andato anche in Donbass definito il putiniano d'Italia quindi cara palmira cara troll di democrazia sovrana e popolare vai a quel vai a raccogliere le firme vai vatti a raccogliere due firme questo mic invece è un troll questo ce lo rimuoviamo direttamente perché questo lo conosco è il trolletto loro ed è inutile ok andiamo a vedere vediamo un po' io io penso che ah questo è sempre Mike vedi questo è Mike che dice io penso che tu sia stato mandato perché dovete sapere che adesso se voi guardate le dirette dei vari Toscano e Rizzo provano a giustificare tutto quello che sta accadendo dove noi parlo noi come tanti altri di quei famosi 17 simboli siamo tutti uomini al soldo dei servizi segreti di tutto il mondo tutti infiltrati per fermare questa temibilissima avanzata di democrazia sovrana e popolare l'unico progetto di cui il sistema trema sono fermi all'1,3% vorrei capire perché questo sistema dovrebbe tremare se non riescono neanche a raccogliere 75.000 firme se non riusciranno a presentarsi alle elezioni non si è capito perché questo sistema dovrebbe essere messo in pericolo da questa avanzata enorme democrazia sovrana e popolare quindi tutti quelli che si sono opposti sono degli infiltrati del Mossad dei vari servizi segreti messi lì soltanto per bloccare questo temibilissimo progetto loro credono che questa cosa questa versione sia credibile io penso che invece debbano mettersi una mano sulla coscienza perché se Toscano ha litigato con 17 soggetti del fronte cosiddetto del distenso tutte persone che sono state anche al suo fianco che hanno scritto sulle sue riviste che sono stati ospiti dei suoi programmi forse arrivato alla 17esima dovrebbe porsi qualche domanda e dire ma forse non è che sbagliato sono io e non sempre tutti gli altri forse non è che sono io che ho un carattere ingestibile incompatibile con un leader politico e non sono gli altri ad essere infiltrati del Mossad quando si comincerà a porre queste domande secondo me è troppo tardi saluto il mitico Ciccio Cipolla grande amico dalla Sicilia Francesco Canata dice se avete dubbi sul cateno di Luca andate a sentire le testimonianze di tante persone che vivevano nelle baracche ma io credo che dubbi ne abbiano davvero pochi se non i troll di democrazia sovrana e popolare come il allora azioni vediamo questo questi poi hanno tutti questi trolletti che non riescono cioè loro non riescono perché io vedi non voglio bloccarli il problema è che questi personaggi non sono persone che dico guarda Francesco io la penso in maniera diversa ti dico che secondo me stanno facendo una cosa rispetto ad un'altra per vari motivi no questi sono proprio personaggi che non riescono a confrontarsi quindi non riescono a dirti per esempio come mai Rizzo attacca un possibile candidato perché ha avuto una condanna e non dice nulla dell'alleanza con un condannato come mai Rizzo attacca chi ha oggi delle posizioni diverse rispetto a quelle che aveva in passato e non ci dice quello che ha fatto lui in passato nei governi di cui ha fatto parte lui è stato più volte parlamentare è stato euro parlamentare non l'abbiamo mai visto ripeto incatenarsi durante i bombardamenti della Serbia non l'abbiamo mai visto incatenarsi quando l'Italia stava entrando nell'euro quindi queste sono persone che non riescono a confrontarsi su questi temi io sono il primo che avevo firmato una sottoscritta una candidatura con Rizzo sulla base del scurdam o passate che ha avuto chi era tarato come diciamo a Napoli poi invece tocca a loro e non si può scordare nulla basta l'azione o la parola detta in passato sbagliata e su quella si accende un riflettore sono veramente personaggi che si sono dimostrati di uno squallore infinito ma io mi auguro prima di chiudere mi auguro e spero che riescano a raccogliere le firme anzi se c'è una mano se c'è qualcuno un appello andate a firmare sul loro sito c'è dove firmare andate firmate perché è arrivato il momento che queste persone si confrontino sul proprio elettorato sul campo altrimenti continueranno queste recite infinite in cui loro non ce l'hanno fatta perché tutto il sistema globale ha remato contro di loro perché tutti i membri del dissenso sono stati infiltrati dai servizi segreti per destabilizzare il loro progetto motivo per cui sono gli unici che sono rimasti fuori altrimenti avrebbero avuto una vittoria come ha detto Rizzo ieri siamo già oltre il 4% non ridete cercate di rimanere seri e allora è meglio che cadano finalmente le maschere andiamo a questo punto alle elezioni e vediamo chi è coerente e chi meno perché questo lo decide il popolo sovrano io credo di aver fatto di tutto per fare sì che anche loro entrassero a far parte di questo progetto mi sono battuto fino all'ultimo secondo possibile anche oltre anche dopo ho continuato quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione della mia candidatura a dire io ci sono rimasto male sono molto amareggiato perché io dovevo essere qui ma con democrazia sorana e popolare a fianco tutti insieme perché sono gli unici che mancano per completare la lista dei partiti che proveranno veramente ad incidere a queste elezioni ho fatto di tutto ma non c'è stato verso perché l'egoismo di qualcuno l'autoreferenzialità di qualcun altro è la colpa e soprattutto di questi trolletti di chi li segue senza avere un minimo di senso critico senza avere un minimo di voce incapito leggiamo qualche commento altrimenti parlo troppo io politicamente informato dice Francesco continua nella lotta non cercare sì però ragazzi non cercare di attaccare gli altri no non mi sta bene più questa cosa perché se tu da settimane tu toscano fai intere trasmissioni come quella di ieri per attaccarci ma a me adesso che voi mi scrivete no continuo la tua lotta non li pensare no cari miei io invece ho il dovere di smascherare la loro ipocrisia ho il dovere di raccontare certe verità ne potrei raccontare tantissime se solo Toscano mi chiamasse in diretta per dire ok desecretiamoci i messaggi andiamo a vedere quello che dicevo io a te quello che dicevi tu a me io sono stato fino all'ultimo ieri nella trasmissione che hanno fatto conto di noi c'era l'unica persona onesta veramente onesta che il loro rappresentante legale oltre ad essere candidato che è Antonello Cresti che sa bene lo ha detto ieri non ha fatto il mio nome però sa bene i messaggi che mi ha mandato per spingere verso quell'accordo quanto ci tenesse a formalizzare quell'accordo è stato onesto lo ha detto io per questo mi permetto di confermare la sua versione anche se non ha fatto il mio nome non l'avrei mai fatto ma dato che è stato lui a farlo per onestà intellettuale e allora io vi svelo chi è la persona a cui Cresti diceva di aver mandato messaggi per spronare quell'accordo però anche Cresti si è opposto ovviamente il minimo indispensabile ma poi da una parte sperava che quell'accordo si facesse ma dall'altra non ha avuto voce in capitolo neanche da legale rappresentante per farsi sentire perché a questo punto se Toscano voleva e il rappresentante legale voleva avrebbero potuto in qualche modo alzare la voce ma lì purtroppo si è capito che la cosa è piramidale e Rizzo era l'unico che non voleva perché era l'unico che non voleva perché l'unico che non ne ha bisogno Rizzo lo ha detto io sono felice ha pagato così ho fatto il parlamentare ho fatto l'euro parlamentare ora sto costruendo qualcosa che me la tengo come un giocattolo per me può crescere anche dello 0,1% all'anno non avverte l'urgenza ha il suo vitalizio già maturato non avverte assolutamente nessuna urgenza forse nei panni di Rizzo avremmo rifiutato tutti può essere nei panni suoi sì nei panni di Toscano no Toscano ha rifiutato solo perché è costretto a farlo nei panni del loro legale rappresentante democrazia sovrania e popolare non avrebbe rifiutato assolutamente ha rifiutato soltanto perché è stato costretto a farlo gli attivisti non certo vogliono stare piegati su dei banchetti a raccogliere delle firme che non serviranno a nulla se la volevano giocare volevano scendere con i banchetti per strada per fare una campagna elettorale per raccontare a tutti quello che avrebbero fatto qualora avessero avuto la possibilità di entrare all'interno delle istituzioni possibilità che era molto probabile ma molto probabile che noi insieme eravamo già oltre il 4% allora vedete per l'ego di qualcuno per l'autoreferenzialità di qualcuno per il fatto che qualcuno è già pagato con i suoi incarichi con il suo vitalizio con la sua carriera politica già fatta ha preferito buttare la palla fuori dal campetto e dire a questo punto se non posso vincere la partita non la deve giocare nessuno e questo per me è un atto veramente inaccettabile ma che nessuno gli permetterà ancora qualche commento vediamo su youtube e su facebook andiamo a vedere chiudo la diretta facebook che non mi sento ragazzi purtroppo facebook ha un grosso problema sono in shadow ban quindi fanno salire la voce la voce va viene quindi chiudiamo un attimo la diretta saluto l'amico ciccio saluto buon signore Anteolella Ilenia Naticchia Patrizio Orazio saluto tutti terminiamo questa diretta che purtroppo non si sente più bene ci vediamo però su youtube cercate sempre il mio canale youtube perché è l'unico che resiste dedichiamoci invece ancora un po' alla diretta qui su youtube essendo questa una diretta dedicata a voi abbiamo già toccato un'ora dovrebbe essere di mezz'ora ma ogni volta non riesco a chiudere basta che ogni simbolo porti lo 0,3 per superare tranquillamente il 4% saremo la novità di queste elezioni addirittura ti dico di più caro amico basta che ogni simbolo porti lo 0,2% per superare la soglia di sbarramento troppi partiti il sistema vince Gaetano Lanza non sono convinto di questo perché se troppi partiti si mettono tutti quanti insieme nella medesima lista non sono troppi partiti diventa una lista unica ed è quello che abbiamo fatto unire 18 sigle in un'unica lista quindi abbiamo esattamente bypassato quello di cui tu adesso ci stai in maniera pacifica accusando il ragionamento di inizio è fortemente egoistico ma assolutamente ma è questo il ragionamento perché altrimenti non avrebbe intrapreso nessun tipo di trattativa invece siamo stati fino all'ultimo giorno ancora con il simbolo di Rizzo in mano era soltanto una questione di simbolo anzi anzi l'ultima cosa prima di concludere che questo l'ha detto proprio Rizzo ieri quindi conferma tutto quello che vi ho raccontato Rizzo dice sì abbiamo fatto l'accordo e lo avremmo fatto se fosse servito per bypassare la raccolta firme ed è a quello che serviva ovviamente inizialmente l'alleanza però dovevamo gestire noi la partita ora una frase del genere denota una arroganza una totale mancanza di rispetto verso l'interlocutore assoluta che soltanto i comunisti possono avere questo sentirsi questo ego in cui hanno la superiorità morale di tutto perché uno che dice sì noi l'accordo lo volevamo fare davvero ci serviva per bypassare le firme ma dovevamo gestire noi la partita e allora io ti dico per quale motivo qualcuno che ha una squadra che già ha espresso due parlamentari che già ha espresso decine di sindaci che già ha espresso dei deputati al Parlamento siciliano che già oltre una soglia percentuale di voti per quale motivo che ha già l'esenzione dalle firme che è una cosa che vale oro in questo momento in ambito elettorale bene chi ha tutti questi requisiti e ti sta dando la possibilità a te di ricevere anche questi benefici per quale motivo ti avrebbe dovuto consegnare le chiavi di casa sua per quale motivo per le 5.000 preferenze che hai preso nel nord ovest alle scorse europee per l'1,3% che hai preso alle scorse politiche che è meno di quanto De Luca ha preso soltanto in una regione per quale motivo hai questa arroganza di pensare che l'accordo ci poteva essere che poteva servire per bypassare la raccolta firme che si poteva siglare quell'accordo con Cateno De Luca purché come detto ieri lasciasse a voi le chiavi di casa sua questa è una frase di una arroganza inaudita veramente qualcosa di inascoltabile di irricevibile e infatti non è stata ricevuta vi faccio dopo le elezioni Rizzo e Purera Toscano dice Sere Rizzo mi sa che vive su Marte non sa che non vi è più tempo ma Salvatore Trombetta tu hai ragione ma non è che vive su Marte vive sulla terra con i suoi benefici è diverso europarlamentare lo è stato parlamentare lo è stato ha fatto parte anche delle peggiori compagini che ci sono state in Italia come quella lo ripetiamo che bombardavano Belgrado quelle che ci hanno portato nell'euro poi ha avuto un pentimento si è messo invece si è tolto anche la la falce e il martello altro simbolo che si è macchiato di crimini impensabili quella quella falce e il martello si è messo da parte anche quello e si è dedicato al mondo sovranista al mondo antisistema facendolo anche bene perché ha una cultura politica una padronanza di linguaggio dei tecnicismi che lo portano veramente ad essere una persona apprezzabile da questo punto di vista però però è appagato però non ha bisogno di nulla vuole un giocattolino lo vuole vedere crescere non sente l'urgenza perché urgenza non ne ha allora ma se a modello non vi sta bene perché perdete tempo ad ascoltarlo ma lui i saspicci sono dei trolletti come vedi sono sempre gli stessi poi li bloccheremo e adesso ho imparato per il momento a cancellare i messaggi imparerò anche a bloccarli vediamo vediamo se a uno lo riusciamo a bloccare metti utenti in time out ok cominciamo a mettere questi in time out così se ne va affanchiul vediamo un po' grande Francesco sempre onesto avanti a testa alta grazie a Sandra Anzil ha stato il Mossad dice Francesco è vero se voi sentite le dirette di Toscano tutti infiltrati vogliono destabilizzare infiltrare dall'interno il nostro movimento ma chi vi caga ragazzi chi vi caga ma ci avete delle cifre io ci credevo nella crescita di quel partito prima di entrare dentro e capire che è di un'autoreferenzialità quel partito che non ho mai visto cioè trattano quegli attivisti veramente come va vabbè poi hanno litigato in tanti c'è una lista enorme di persone che non va più d'accordo con Toscano dopo essere stati interni a Visione TV alla rivista al canale qualche mano sulla coscienza se la dovrebbero passare allora ragazzi vediamo se non ci sono altri commenti allora vi dico un po' di novità il caffè con Morpheus questa rubrica che adesso è durata un'ora ma dovrà durare di meno non può durare così tanto questa rubrica andrà in onda domani come al solito insieme a me dopodiché più volte a settimana almeno tre volte a settimana questa rubrica andrà in onda con il collegamento un altro ospite si parte dal grande Vito Comencini per farvi capire per ribadire quanto noi siamo contrari a questa bandiera ucraina non perché ce l'abbiamo con gli ucraini poi lini che sono le prime vittime di quello che hanno fatto quei governi criminali soprattutto contro di loro e gli Stati Uniti che li hanno utilizzati come carne da cannone quindi tanto di cappello e massima solidarietà al popolo ucraino che possa uscire quanto prima da questa guerra dopo Vito Comencini ci saranno ovviamente tante altre dirette anche con i candidati della lista libertà vi ricordo che il 15 aprile sarò a Bolzano vediamo a che ora alle 18 a Bolzano ho pubblicato tutto per una conferenza unica su tutti i temi europei sul cartello finanziario sulla matrix europea perché il conflitto è nato parliamo a 360 gradi di tutto Bolzano se siete nella zona il 15 aprile poi sarò in tour in tutta Italia quindi sarò a Roma sarò a Milano sarò un po' ovunque quindi è pronto il sito federazione noi italiani punto it federazione noi italiani punto it andatelo a visitare vi prego guardate cliccate sul noi in trincee andate a vedere quello che abbiamo fatto in questi anni chi si volesse tesserare facendosi la tessera in questo preciso momento storico quindi prima del 9 giugno contribuisce anche ad una campagna elettorale costosissima mi hanno detto che ci vorrebbero 100.000 euro per fare bene una campagna elettorale per le europee io sto cercando di raggiungere un decimo di quei 100.000 euro se ne raggiungessi 10.000 per fare la campagna elettorale vuol dire che potrei fare anche non dico dei cartelloni quello basterebbero un paio per finire tutto il budget ma almeno un po' di volantini un po' di materiale un po' di conferenze in giro per l'italia perché quello per me è molto costoso sono i soldi del treno ieri ho speso 120 ero soltanto per andare e venire da roma quindi immaginate devo andare a milano verona bolzano bisogna fare una raccolta fondi ho fatto un go found me se volete sostenerlo potete scrivermi su telegram e vi mando il link metto anche qui in descrizione se volete sostenermi in minima parte potete farlo con il tesseramento diventate membri di noi italiani noi italiani che ha avuto veramente una crescita esponenziale nell'ultimo periodo abbiamo contribuito a creare noi agricoltori e pescatori un simbolo che troveremo alle elezioni politiche che ora sono che devo andare in diretta cavo ho l'altra diretta con i membri di Libertà ripeto sul sito federazione noi italiani punto it trovate tutte le informazioni la possibilità di tesserarvi appena vi siete tesserati dovete mandarmi ma vi arriva già via mail tutte le indicazioni dovete mandarmi un whatsapp perché vi metto all'interno del gruppo telegram dedicato solamente agli abbonati per interagire ogni giorno io vi saluto e vi ringrazio un saluto agli amici Rizzo e Toscano e speriamo che democrazia sovrana e popolare ce la farà andate a firmare andate a firmare portateli e obbligateli a misurarsi sul campo un saluto a tutti